Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, dalla Panastudio Production di Palermo, la Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Ed eccoci di nuovo presenti in una nuova puntata, anzi un nuovo ciclo di puntate della Tana gruppo dedicate al Consiglio Comunale, insomma lo facevamo l'anno scorso e ci manca, quindi sentivamo necessità di parlare con i nostri consiglieri perché vogliamo vivere e raccontare quello che accade al Consiglio perché appartiene un po' a tutti i cittadini e alla città di Palermo. Tra l'altro oggi sono molto felice perché questa puntata la potete vedere per chi ha il televisore in full HD sul canale 511, quindi 091 HD è il nostro nuovo network con una qualità spettacolare, ci avviciniamo veramente e alla grande ai canali nazionali. Era nostro interesse portare questa televisione a un certo livello, abbiamo investito tanto e siamo riusciti, quindi per chi volesse vedere questa puntata in full HD basta collegarsi al 511 e se non ci vedete risintonizzate il vostro decoder e sicuramente godrete di queste meravigliose immagini del nostro studio di Palermo. Allora, do subito il benvenuto a Giulio Tantillo, consigliere comunale di Forza Italia e Mimmo Russo, consigliere comunale del gruppo Misto. Tu perché sei rimasto Misto da sempre? Mistico. Sei mistico. Perché ancora non hai scelto il partito con cui condividere pensieri e parole? Voglio fare una premessa. La mia natura politica sta a destra, quindi al di là del fatto che mi trovo gruppo mistico, sai che ho molta mestichezza con gli amici di Forza Italia da sempre, da quando ho militato in alleanza nazionale e ora. Andiamo a spallucce, diciamo, il consiglio comunale perché ci troviamo fra le esperienze ma comunque un modo di vedere. Io ti avevo lasciato MPA se non ricordo male. Sì, sì, sì. È stata una parentesi di quattro anni nell'MPA con Raffaele Lombardo e poi si è chiusa con l'esperienza del regionale e lui è uscito fuori di scena e cosa va? Ma abbiamo chiuso lì quell'esperienza. La vostra esperienza? Sì, sì. Autonomista e cosa va? Tra l'altro voglio dire al mio pubblico, doveva essere presente in questa puntata anche il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Orlando, ma per motivi istituzionali dell'ultimo secondo, purtroppo non sarà presente con noi ma sicuramente lo avremo in un'altra puntata perché una puntata settimana sarà dedicata a questo Consiglio. Giulio Tantillo, da tanto che non ci vediamo, so che comunque non vi siete fermati di lavorare, insomma il Consiglio lavora tanto ed ha chiaramente una compagine totalmente diversa. Ci sono tanti giovani che si sono affacciati a questo mondo della politica, soprattutto dentro il Consiglio e qual è il vostro rapporto con il governo? Tu stai all'opposizione, ricordiamo con i nostri telespettatori. Tanto devo dire che è un ritorno gradito questo oggi qui nello studio con questa novità in assoluto che tu ci hai comunicato. Torniamo quindi alla domanda. Qual è il rapporto con il governo della città? È un rapporto che ho sempre sostenuto che il rapporto con il governo della città, vista la situazione che si è venuta a creare, la grande crisi economica, la grande crisi che investe tutte le aziende, che investe la macchina del comune comunale, non potevamo scegliere una linea dura nei confronti dell'amministrazione perché questa avrebbe penalizzato i cittadini e la città. E quindi abbiamo scelto una linea, non voglio dire molto, ma la linea del dialogo, la linea della costruzione, guardare caso per caso, delibera per delibera, tutto quello che avviene. Certamente abbiamo criticato fortemente la giunta Orlando perché io ritengo che fin dall'inizio, da quando si è insediata, la giunta va a due velocità. Il sindaco va a una velocità molto più spedita, molti assessori della giunta Orlando invece hanno dimostrato dopo due anni che non tengono il passo nemmeno al 50% di quello che è il passo del sindaco. È dovuto molto spesso ad inesperienza totale, un assessore della quinta città d'Italia non si inventa dall'oggi al domani. Ci vuole una tale esperienza che non è da pochi e quindi questo ha fatto sì che molti assessori, e non capisco come ancora, il sindaco non si renda conto che ancora oggi molti assessori andrebbero cambiati. Ci si dice che se vicini a un cambio di alcune assessori, ci auguriamo, ma non per gli assessori che poi tra l'altro è brava gente, nulla, però la politica è un'altra cosa, amministrare è un'altra cosa e la città ha bisogno di veri amministratori. Però è pur vero che in questi giorni sta accadendo, insomma, molti vertici delle partecipate sono venuti a mancare, se così si può definire, perché il sindaco in qualche modo se ne è fatti fuori. Parliamo naturalmente di Amat e di Amap. Tutto il nodo della questione nasce dal fatto che c'è un trasferimento di personale, il personale delle caditoie, circa 175 unità, che praticamente dovrebbero essere trasferiti all'Amap, dall'ARRAP. Così ha deciso il sindaco, senza aver concordato sicuramente con il presidente della COSPA. Neanche le organizzazioni sindacali sapevano nulla. Ieri in Commissione Bilancio abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali tutte e in quell'occasione ci hanno detto che non avevamo nessuna contezza che dovesse arrivare dei laboratori. Cioè non erano stati avvisati proprio? Sì, perché la differenza dove sta? Il lavoratore trasportato dalla RAP all'AMAP, quel lavoratore guadagna qualche centinaio di euro in più perché ha un contratto di servizi federambiente, mentre quell'altro ha un altro tipo di contratto. Quindi dice noi ci vediamo arrivare 175 persone, praticamente la guerra è in casa. È normale che una persona che ha un contratto di lavoro che va a lavorare in un'altra azienda creerà non pochi problemi a tutti i lavoratori e alle organizzazioni sindacali tutte su questa cosa. E perché far saltare la testa del presidente? Se così si può definire un salto di testo che è stata anche un'azione concordata, politica. Beh lì la situazione, il perché, insomma uno si può anche immaginare perché c'era stata una riunione, credo, bisognava deliberare e quella delibera non vide la luce e quindi si dimise l'intero consiglio di amministrazione. Devo dire che in questa vicenda, che chiede l'amico mio, Mimmo Russo, io non sono tanto d'accordo sulla, ecco, ancora una volta io mi trovo invece a favore proprio per come ha operato il sindaco, ma perché? Cioè condividi il pensiero del sindaco? Io sì, perché? Per quale motivo? Il motivo qual è? Ha detto bene Mimmo Russo, ma ha però dimenticato un qualcosa che deve far comprendere come stanno le cose. Questo personale mica ha lavorato per l'AMIA, sempre per le caditoie ha sempre lavorato. Il problema qual è stato? Che durante gli anni, diciamo la verità, è stato così. Che cosa era avvenuto? Poiché non potevi caricarlo all'AMIA, per le note vicende come era situata l'AMIA, perché sono persone che lavoravano per conto dell'AMIA, allora si è fatto una cosa diversa, cioè lavorano all'AMIA, però io ti do i soldi a te AMAP per le caditoie e tu indirettamente questi soldi li giri pagando queste persone e in questo modo io ho coperto il servizio. Adesso in una situazione del genere che era a Nova, non c'entra nulla, Cammarata, scusatemi Orlando, era stata la Presidente di Amministrazione che aveva trovato un sistema per poter risolvere il problema. Orlando si è trovato davanti a questa situazione, non ha fatto altro che, devo dire, grazie a lui, perché noi non lo potevamo fare, perché il personale non era previsto il passaggio in automatico presso un'altra azienda, non c'era questa mobilità. Una volta che questo è stato previsto, quindi per legge, lui non ha fatto altro che prevedere quello che noi non avevamo potuto fare e quindi lo ha fatto, o tantomeno ha chiesto all'amministrazione. Sì, ma non ci trovo nulla di strada, cosa diversa, vero, è quello che ha detto Mimo Russo, c'è chiaramente una vicenda sugli stipendi che bisogna lì guardare come fare, però bene avrebbe fatto la stessa Commissione Bilancio prima sentire l'amministrazione, perché non mi risulta che la Commissione Bilancio abbia... No, abbiamo sentito, l'amministrazione... Costantino avete sentito, mi risulta e non l'amministrazione, cioè né l'assessore avete sentito, né così a me risulta. E poi sentire i sindacati... Cosa cambiava se veniva l'ascoltatore? Beh, sentivano per quale motivo l'amministrazione e la linea dell'amministrazione è così. Chiaramente io comprendo la... No, abbiamo parlato con l'assessore Abbonato e ci ha spiegato un po' la situazione. Il guaio sta... Le ragioni che ha detto Giulio sono perfette. C'è un tema di fondo. I soldi venivano trasferiti dall'AMAP alla RAP per 4 milioni e 700 mila euro per pagare gli stipendi, perché li calcolavano in funzione dei loro stipendi. Ma il costo di quei lavoratori, il ritorno sempre sullo stesso problema, è superiore. Quindi se ne va a 6 milioni e coci. E allora il tema... Cioè il peccato originale, diciamo, sta proprio là. Che se è vero che già dall'aggiunta cammarata all'aggiunta Orlando ora si è trovato questo passaggio possibile, si sa nelle cose, si è sempre fatto quel servizio, va bene. Ma c'è un problema di contratto di lavoro dei lavoratori. È un costo economico, non è che tu dici passo questi lavoratori dall'altro lato. Ma gli devo dare la copertura economica. Perché quei soldi che l'amministrazione di 7 milioni e 800 mila euro che dà per le pulizie delle caditoie, quindi servizi e cosa fa, fanno parte anche altri tipi di lavoro che non sono tenuti a fare questi 175 che si occupano solo della pulizia, ma dei raccordi con le fognature se ne occupano i lavoratori dell'Ava. Allora, se tu hai fatto un contratto di servizio, o vai a specificare, vai a rivedere quel contratto di servizio per cosa devono fare queste 175 persone, ma l'idea è bellissima. La copertura economica sicuramente manca. Chi subisce il disagio è sempre poi il cittadino alla fine, perché tutti questi passaggi non comportano al compito finale che è quello di avere un servizio. Ma il servizio continua, mica si è fermato. Perché i lavoratori sono lì e il servizio delle pulizie caditorie continua, mica si è fermato. È un problema tutto burocratico legato all'interno dell'azienda. Io posso comprendere le ragioni del sindacato, però invito il sindacato a trovare una soluzione nell'interesse del cittadino, nell'interesse dell'azienda e insomma anche per quello che è il servizio. Parliamo di un altro argomento, questo so che sta molto a cuore a Mimmo Russo. Noi tra l'altro in queste ultime settimane abbiamo, attraverso la nostra telecamera, abbiamo fatto diversi servizi. Parliamo dei PIP e dei precari. Insomma, questa storia riguarda insomma il cosiddetto reddito familiare. Mi sa un po' di ridicolo, devo essere sincero, un po' il piccolo lavoratore, il piccolo precario, soffrire questa mancanza di informazione perché non si può fare cumulo del lavoro invece del lavoro autonomo. Cioè se questo dipendente, diciamo o ex dipendente a questo punto perché non sappiamo... No, ex lavoratore. Ex lavoratore. Intanto perché quando tu mi devi un sussidio a me, non sono più un lavoratore. Questo è che dobbiamo chiarire le cose perché ancora il Presidente Cosetta continua a chiamarli lavoratori. O dipendenti. Sussidiati. Sussidiati. Ancora comunque il primo, forse lo aspettiamo in questi giorni, il primo sussidio dei famosi 832 euro. Tu sei un esperto. Forse fra qualche giorno arriverà l'Inpes che è stata incaricata con la Convenzione, l'Inpes riceverà 4,77 euro più IVA per l'erogazione a ogni lavoratore. Ah ecco, 4,77. Precisiamo. Non farà buste paga perché un lavoratore ha la busta paga. Loro invece sul singolo pagamento riceveranno 4,77 più IVA. Questo è importante per vedere quando si parla di celotta agli sprechi e cosa vale. Perché fu accusato allora la social trinaglia perché aveva dato incarico allo studio Morisco che gli faceva le buste paga. A 4,90 euro la Regione li paga ancora ancora più cari. Ma entriamo nel dettaglio del problema del reddito di familiari. 20.000 euro. Questa è la più grossa corbelleria che un Presidente della Regione poteva fare. Dico corbelleria per dire poco perché vi rendete conto che papà e mamma pensionati, il povero Pip, che non può sicuramente mettere su famiglie, sposarsi, andarsene per i fattisori. Non si può staccarsi da quel nucleo familiare. Non si può staccare perché io vivo in quelle condizioni, cioè io vivo nelle mie condizioni di disagio, ho l'assistenza dei miei genitori, metti caso che questo signore ora gli viene a mancare un genitore o gli vengono a mancare tutti e due i genitori, si trova espulso dal bacino, espulso, quella parola bellissima, che è espulso dal bacino perché assieme ai suoi genitori hanno fatto 20.350 euro. Ma a tutto questo, noi siamo in piazza in questo momento, io ho lasciato a Lars, sono col presidio. Noi l'abbiamo seguiti anche a Lars, ragazzi. Allora ti voglio dire questo, vorrei occuparmi anche di un altro problema che si deve mettere in evidenza. Ci sono soggetti che sono stati espulsi dal bacino perché erano stati detenuti, ingiustamente, sono stati dal tribunale dichiarati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste e sono stati espulsi. Ora, c'è qualcosa che non funziona. Però questi possono fare ricorso e vincerlo pure il ricorso. E possono avere ragione, certamente una persona normale fa un ricorso, gli costa 1000 euro, ne guadagna appena 620 e più l'integrazione e che paga il ricorso oppure mangia. questa cosa è bene che il Presidente della Regione faccia mente locale, gli dica sui uffici di rivedere queste espulsioni, mi chiama espulsioni. Questa io dico non è macelleria sociale, do ragione a lui che dice che non è macelleria sociale, è esterminio sociale. è assurdo che una persona deve ricorrere al TAR per poter rientrare a ciò che ha un diritto. Ma la cosa paradossale, Giulio lo sa perché è anziano come me, anziano come Consiglio Comunale, come Consiglio Comunale, è un segno. Non l'ho detto lui è anziano e io no, anziano come me in Consiglio Comunale, ti voglio dire che il titolo per entrare in questo bacino era quello di essere ex detenuti, ex alcolisti. Era un requisito forse. Sono stato condipendente, Giulio ti ricorderai perfettamente. Era un requisito fondamentale. Il sindaco Orlando nel fare il bando di emergenza a Palermo, il requisito per partecipare a quel bando per l'assegnazione del bando, uno dei requisiti era o ex detenuto, o ex alcolista, o ex alcolisti condipendente. Le cose sono due. O io sono convinto che negli anni questi si dovrebbero diventare tutti ingegneri, avvocati e ragionieri. E questo mi pare a quanto è impossibile, non c'è stato. Qualcuno si è laureato, qualcuno si è diplomato. Ti faccio un esempio. La signora Lucchese, Giovanna, vive con i genitori pensionati, tutti e due, hanno acquistato la casa con mutuo, hanno finito di pagare. Questa ragazza è laureata in infermeria, lavora presso il civico di Palermo, faceva la pippa, non si sa che cosa, sostegna il red, non si capisce che cosa sia, ma almeno nel lavoro. Ebbene, questa persona è stata espusta dal bacino perché è accumulato assieme alla pensione del padre e pensione della madre, più la casa che non si possono scaricare dal suo reddito, supera 28 mila euro. Non mi pare per nulla corretto. Il reddito è personale. Io lancio un'allarme da questa occasione. Che mi stai dando, lancio un'allarme. Sai perché l'allarme lancio io? Che se per puro caso qualcuno, in questi giorni che c'è una manovra al Parlamento regionale, manovra finanziaria, questa manovra finanziaria, possa dire che questi lavoratori ottengono la titolarità a essere lavoratori ASU, siamo attenti che anche per loro è prevista l'escursione dal bacino con un reddito personale. Qua in questo caso è personale perché uno la legge. Nella Repubblica delle Banane, dove viviamo, il reddito personale non deve superare 8 mila euro. Cioè significa tutti fuori. Dico qualcuno... Perché se avessero un reddito proprio non starebbero con i genitori. Ma assolutamente. C'è una cosa automatica. Assolutamente. Ecco, quando parlavo dello sterminio di massa mi preoccupavo anche dei lavoratori ASU. Se qualcuno ci vuole fare questo regalino magari qualcuno lo aspica in questo momento. È un regalo di Pasqua. Sì, un regalo di Pasqua. Quindi io ti ringrazio per avermi dato questa oggi giornata che noi siamo in piazza. Noi siamo sempre con chi ha più bisogno. Incontreremo tutti i gruppi politici. Mi sono incontrato già con il gruppo di Forza Italia. Ci rivedremo di qui a poco con gli onorevoli deputati di Forza Italia. Poco fa scherzando col tuo gruppo misto sto pensando un attimino a Giulio. Giulio è rimasto fedele a Forza Italia. Questa è una domanda che devo fare prima di parlare di alcune novità del Consiglio Comunale. Scusami Mimmo che dicevi. E dicevo che incontreremo il gruppo di Forza Italia come abbiamo richiesto già alla Dicosi di incontrare tutte le forze politiche. perché questa norma di legge l'articolo 43 che è chi commette danno contro il patrimonio va fuori. Faccio un esempio. C'è stato un signore e non voglio dire il nome perché loro pubblicano anche i codici fiscali all'assessorato alla famiglia reddito e quant'altro. Hanno fatto veramente una cosa vergognosa. Io non voglio dire il nome di questa persona. Però ci sono assessori dirigenti che i loro compensi non li scrivono. C'è un signore che è purtroppo classico intrallazzo di luce classico non siamo a Belluno siamo a Palermo e a Casavari è stato pescato per questa cosa escuso dal bacino. Qualcuno va a riflettere questa persona questo Parlamento Forse è che questo signore che intrammazzava la luce voleva farsi un paio di mesi di carcere per poi avere il requisito di essere in regola. Magari per entrare sicuramente si è fatto in questo modo. Ora io voglio dire una cosa importante questo è il requisito per entrare non puoi usare lo stesso requisito per espellere una persona. E la colpa non la do soltanto al Presidente Crocetta ma gli 89 deputati regionali che sono dentro l'Ars che hanno votato questo benedetto articolo 43 e benedetto articolo 34. Sembrerebbe che l'onorevole Gracolici abbia fatto un passo indietro su questo lo incontreremo questo poperiggio auspichiamo che ognuno prenda atto degli errori che sono stati fatti perché di errore si parla e si porti un po' di serenità a 3.000 famiglie che in questo momento stanno soffrendo sotto la pioggia davanti all'Ars E allora Giulio prima di parlare di con loro perché so che insomma avete discusso tanto che con loro ci sono delle belle novità ogni tanto qualche novità insomma piacevole può come dire portare qualche sorriso in più che viene a mancare a tutti i nostri cittadini italiani in particolare i siciliani ma intanto una domanda curiosa com'è che sei rimasto in Forza Italia? O perché? O ancora di più curiosa no non te lo consento scusa no no curiosa nel senso della mia curiosità io sono curioso sapendo anche dov'è la tua diciamo conosco il tuo percorso ti dico subito che il mio rapporto all'interno con all'interno di amici che ha il nuovo centrodestra cominciato dal rapporto personalissimo che ho io con Angelino Alfano e con altri esponenti del partito da Schifani a Vicali a Misuraco ho ottimi rapporti è stato c'è stato un blitz in aula del nuovo centrodestra che il beh adesso magari qualche cosa possiamo mentre io discutevo con qualche persona autorevole del nuovo centrodestra il un blitz che ha portato alla costituzione di un gruppo quindi io ne ho preso atto e come tale è evidente che loro ho detto subito hanno scelto per me io sono rimasto in Forza Italia e come tale continuo dentro Forza Italia quindi nessun questo è un tuo legame personale col pensiero berlusconiano o c'è dell'altro? no ma al di là vedete se puoi sapere come penso io in Forza Italia ma la penso così da da molto tempo io ci saranno troppa gente esperta in politica ma io ti dico che sono convintissimo che la nuova era berluscone porterà tutti fuori tutti ancora una volta? tutti e questa legge elettorale che è stata fatta è una legge elettorale proprio scelta anche dal mio partito perché quasi il 90% di quelli candidati adesso che hanno tre legislature quattro legislature non sarà secondo me non sarà più candidato candidato non sarà eletto no non sarà candidato eletto è un problema perché sono nominati di nuovo a me non piace sono bloccate le liste ma non saranno messi in lista e mi sembra che ieri sera il presidente Berlusconi ha già lasciato un appello del genere dicendo beh un po' di questi un po' di quelli ma alla fine perché certo è lungo anche perché bisogna votare la riforma del senato quindi questa storia io la vedo così quindi nel futuro prevedo partito un partito diverso completamente diverso prevedo quello di Forza Italia un partito completamente diverso con gente completamente nuova per il resto non ha senso che in un partito dove io sono sempre stato il più votato in questa città eppure quando si fanno le liste ti scelgono le liste e ti mettono quelli che magari hanno cinque volte sei volte però poi in termini di consenso insomma non c'è molto consenso sono poveri di consenso questo è un fatto gravissimo quelli sono nati deputati nati per fare deputati sono gli errori dei partiti oggi che si vuole fare marcia indietro per capire che il territorio completamente sono scomparsi dal territorio i partiti sono scomparsi dal territorio io ti do un dato che a pochi sfugge visto che vogliamo parlare di politica quante segreterie politiche ci sono più nella città di Palermo bisogna forse fare i conti di segreterie sono scomparse quasi tutte le segreterie politiche la gente non ha più dove andare anche perché la gente vuole andare con chi lavora nel territorio e l'unica persona che lavora all'interno del territorio oggi sono i consiglieri comunali da un lato e alcuni deputati regionali che lavorano ancora oggi sul territorio ma come deputati nazionali non mi sembra che vi sia un'attività ma non da ora io la vedo da sempre non è più un'attività territoriale sono avulsi dalla realtà ci sono dei casi a sé che c'è gente che ancora oggi lavora ma è di gente che ha un'esperienza dell'elezione diretta quindi con le preferenze quindi avendo avuto quell'esperienza continua in questo modo ma moltissima gente per la verità è avulsa dalla realtà del territorio e oggi e dal punto di vista proprio di quello che deve essere l'impatto con il cittadino questo non esiste più questo contatto non c'è più si è perduto negli anni ecco perché la protesta ecco perché poi in Francia Le Pen riesce ad avere quello che stravolgendo quello che è avvenuto in Francia se questa forma viene esportata in Europa tutti sono preoccupati ma in Italia è già iniziata con Grillo perché è una forma di sistema di Le Pen nel senso della protesta del voto e questo deve far riflettere moltissimo e io dico di più lo dico oggi tra tre mesi ne riparleremo io credo che alle europee ci saranno anche sorprese ma non solo in Italia ma in molti paesi d'Europa in Francia sicuramente in Francia pure dici allora invece parlavamo di condono cosa sta accadendo insomma i condoni intanto sono tre quello dell'85 del 93 e del 2003 sono più di quasi 50.000 pratiche una cosa quasi inverosimile forse anche di più il dato te lo do io sono stati presentati in totale come condono nella città di Palermo sono state presentate ben 60.000 domande di queste 60.000 sono riferibili 50.000 domande sono riferibili sono riconducibili quelli dell'85 e alla cosiddetta 724 quindi il secondo condono e che si differenzia il primo e il secondo condono si differenzia dal terzo quello che è la 326 cosiddetta si differenzia dal fatto che mentre per i primi due si può fare la perizia giurata per il terzo la legge non lo prevede quindi sono due binari diverse 50.000 per i primi due 10.000 per il terzo sono passati però un sacco di anni sì ma io ti do un dato il dato fu l'assunto e pure una categoria in particolare per fare queste cose ti do il dato in 30 anni da 60.000 le pratiche sono scese a 54.000 quindi significa che in 30 anni abbiamo fatto 8.000 pratiche abbiamo fatto 6.000 pratiche 6.000 pratiche ma ti do il dato dell'ultimo anno che sono 10.000 pratiche come ti ho detto se noi è facile immaginare sono state trattate circa nell'ultimo anno delle 10.000 pratiche sono state trattate 400 pratiche di cui esito finale quindi con la concessione rilasciata solo 100 pratiche se noi facciamo il calcolo che in un anno noi possiamo rilasciare 100 pratiche e dico e sono già e gli uffici hanno lavorato bene quell'elettore del 26 posso assicurare che hanno lavorato bene e anche veloci si 100 pratiche se facciamo un calcolo 10.000 sono 100 anni giusto per le altre due che rimarrebbero gli altri due condoni gli altri 40.000 pratiche per gli altri condoni se la media è quest'anno abbiamo fatto una media di 700 pratiche facendo un calcolo ci vorrebbero circa 70 anni 65 anni una cosa del genere e tu non la puoi votare fra 70 anni appunto e meno mimmo allora qual è il sistema che gli uffici devo dire hanno proposto tutti e la commissione urbanistica ha detto sì adesso vedremo anche in consiglio comunale ma credo che nessuno si opporrebbe a un iter del genere cioè quale per tu il dover velocizzare le pratiche esiste per i primi due condoni abbiamo detto la perizia giurata ebbene se tu tecnico fai una perizia giurata e mi dichiari sotto la tua responsabilità che dal punto di vista urbanistico la pratica è in quel modo io devo solo controllare i oneri se io controllo i oneri che tu hai pagato i oneri e li hai pagati io ti rilascio la concessione e poi tu entro 60 giorni ti rilascio l'agibilità se noi andiamo verso questo sistema sicuramente 6-7 mila pratiche l'anno si possono rilasciare e rilasci questo in 7-8 anni qual è la rivoluzione? la rivoluzione è questa che se io do all'ingegnere Mimmo Russo 20 pratiche lui deve seguire quelle 20 pratiche senza tutti questi passaggi da me passa a quello da questo passa all'altro lui la inizia e la finisce l'assunzione di responsabilità lui inizia e finisce e qui finisce la pratica controllo se ci sono i oneri vado a controllare che nella perizia tutto quello che è stato richiesto c'è scritto via la pratica può andare certamente qualcuno si dice ma i controlli non avvengono certo anche a campione i controlli con il sistema random che si può fare e a campione ogni 20 pratiche che l'ingegnere russo fa io ne controllo una con un criterio per esempio per adesso è avvenuta che tra le 20 che vengono date a lui in un sistema a caso lui controlla quella che ha maggiore volume certo è un criterio è un criterio è anche un dato importante è un criterio perché lui non sa quelle che gli vengono attribuite e poi controlla se è fatto in questo modo noi pensiamo che questa cosa può andare avanti ecco che cosa serve fare opposizione costruttiva serve a cercare di dare una mano per snellire queste procedure perché in questo momento una delle cose più gravi che il cittadino palermitano subisce e di questo mi fa piacere che ne possiamo parlare oggi Mimmo stamattina oggi non era presente alla confezione ma si è parlato di un tema importantissimo come quello che in questo momento il cittadino palermitano che va per chiedere un'informazione allo sportello unico al suo app per chiedere un'informazione e non riceve nessuna informazione perché è tutto online perché è tutto online ora il fatto di essere tutto online io annuncio qui che noi domani sera voteremo in consiglio comunale e credo che sarà la voteremo tutti maggioranza e opposizione voteremo una mozione che è già stata presentata dove diciamo va bene online perché è la legge su questo non ci sono dubbi la legge dice che le domande vengono presentate però la legge non dice che non c'è il contatto con il pubblico se io chiedo un'informazione io devo riceverla e quindi noi chiederemo al sindaco di attivarsi affinché venga riaperto al pubblico lo sportello unico delle attività produttive perché il cittadino il tecnico il geometra l'imprenditore chiunque l'imprenditore che ha bisogno un commerciante che ha bisogno di un'informazione non è possibile pensare che dall'oggi al domani dice io mi collego e poi non so più nulla se devo che ma come devo fare in questo modo o nell'altro modo ma non parliamo poi di tempi perché anche i tempi sono ancora molto che non può avvenire e quindi noi domani sera porremo rimedio anche a questa cosa perché è la città che ce lo chiede la città ci chiede quindi di questo sei certo domani siete certi che domani questa mozione passa ma è l'assessore di Marco bimbo perché non esprimeva il suo pensiero insomma su questa swap che è diventata una swap solo virtuale dove appunto proprio stamattina io ho ricevuto un imprenditore che mi raccontava la sua avventura aveva spedito una pratica online così come prevede la legge e poi per tante settimane provava a contattare anche telefonicamente il swap e non davano risposte telefoniche perché dice che la legge non lo prevede c'è anche poi un po' di moralità da parte di chi sta dall'altra parte capisco che la legge dice ma forse non dice nemmeno che non devi rispondere non dice non dice questo ma anche un minimo di rispetto verso la persona che ti sta chiamando allora ti posso dire una cosa la cosa più grave è che le persone che lavoravano all'URP che davano le informazioni sono state trasferite di fatto in via Montesan Calogero cioè nemmeno più sono lì da circa dieci giorni sono state trasferite lì quindi nemmeno questo tipo di informazioni si riesce a dare e questo non è possibile assolutamente il problema sta nel fatto della domanda iniziale che hai fatto a Giulio Cantillo per quanto riguardava l'aggiunta il tema è che questa aggiunta di tecnici andava fatto un corso di formazione ci provo con i consiglieri come ah e all'inizio non so che esi si sono posti il problema non credo che ci sia stato un ottimo risultato dobbiamo dirla tutta su questo ma l'assessore paga lo scotto per far in carità una dignissima persona ma non c'è niente essere degne persone con la politica l'assessore è stato travolto in questa occasione come nell'occasione dei gazebbi per la delibera dei gazebbi così come è stata per le moto motoati così guardate ma si vuole rendere conto che è stato fatto un atto deliberativo per fare il bando di assegnazione delle moto carrozzette e non era in grado l'ufficio di predisporre un regolamento e hanno utilizzato il regolamento delle carrozze a traino animale che era stato fatto qualche anno prima nel 2007 esattamente Giulio si ricorda di questo particolare allora hanno preso quello e l'hanno modificato risultato io ho detto state attenti a quello che fate perché voi metterete in difficoltà quelli delle carrozze morale alla favola hanno fatto blocchiamo l'ingresso e cosa fare a 18 perché non possono entrare di più le carrozze avevano un bando per 60 ora sono 48 ci sono altre 12 possibilità di lasciare licenza gli uffici sai cosa dico ma in quel regolamento c'è scritto che non si viene bloccato perché c'era il regolamento delle cose che sono modificate con quelle delle motocarozzette ora io dico questo però c'è qualcuno che si è fatto pubblicità con questo diciamo con questa opportunità che è stata data diciamo ai moto a pisti chiamiamo le macchie ma allora io dico si dice moto a pisti giusto? moto carrozzette quasi è dimostrato ecco quasi è dimostrato il livello allora anche qualche associazione degli appigiani io spero che ora ora io ho visto qualche notizia sulla stampa credo che usciranno fuori i panzer all'arcuri che arriveranno Emilio è una persona esperta credo che non per plagio ma dico che ritengo che era l'uomo d'esperienza che poteva essere inserito e mi dispiace che non non l'abbia fatto fino adesso ma pare che stia arrivando non so chi pagherà chi pagherà questa cosa ma qua occorreva per i tecnici che ha messo in giunta un corso di formazione professionale non si fa politica senza aver fatto la gavetta giuro su questo condivide l'abbiamo sempre detto lo sanno tutti Marco noi veniamo dal quartiere alle circoscrizioni al consiglio comunale credete il livello della politica è così basso scarso e cosa vale perché non è tanto il sapere parlare e sapere talagliare un ragionamento ma è quello che tu esprimi nell'esperienza che tu hai fatto conoscere la macchina amministrativa conosciamo la macchina amministrativa e ci viene facile già abbiamo un gioco facile qua corre corso di formazione la gente si deve rendere conto il sindaco è prima che questa giunta è scarsa diciamo la verità ma non perché vogliono essere scarsa abbiamo la giunta scarsa non hanno fatto manchi i consiglieri di quartiere che cosa cosa potrebbero capire cosa va non si è capito perché ha scelto questo io non credo che lui abbia preso ordini dall'esterno dal punto di vista politico cioè questi sono assessori che ha scelto realmente non ha voluto fare una giunta politica e quindi ha scelto una giunta tecnica ritenendo solo che il sindaco possibilmente ha commesso l'errore di una giunta tecnica la puoi fare ma la verifica non è possibile poterla fare dopo metà consigliatura la verifica dopo un anno ti accorgi se la città va o non va e alcuni settori non andavano io voglio dire lui sa benissimo che io ho sempre criticato alcuni settori della città che non vanno e lui sa benissimo perché ne ho fatto un cavallo di battaglia all'interno dell'aula consigliare poi sembrava una cosa personale contro qualche assessore ma non è così è per quello che ha detto non esiste non è possibile l'esperienza è importantissima non è che uno si inventa di fare l'assessore della quinta città d'Italia è impossibile poterlo fare il sindaco è in ritardo su questo lì mi sento di criticarlo fortemente perché è in ritardo su quello che doveva essere una verifica e un rimpasto immediato altro che rimpasto una sostituzione immediata di alcuni assessori proprio per rilanciare la città quando una squadra non va nel calcio si cambia l'allenatore e lui non l'ha fatto l'esempio è il Palermo tu continui a chiamarla la quinta città d'Italia ma ultimamente non credo più ma sempre quinta e quindi quinta come grandezza sempre quinta sempre quinta prendo una quinta comunque anche alcuni deputati regionali che abbiamo avuto in trasmissione hanno detto la stessa cosa basta con gli assessori tecnici perché si sono dimostrati un fallimento magari dal punto di vista dell'umano ci sta tutto tutte persone per bene tutte persone preparate da certi punti di vista ma non come dire senza esperienza nella macchina burocratica amministrativa c'è un dirigente che decide che non si deve fare una cosa non si fa Bianchi ne ha tratto le conseguenze si è dimesso ma ti rendi conto che sono stati bocciati 300 articoli della finanziaria da un governo tecnico ma stiamo scherzando il presidente è pure un tecnico il presidente è tecnico di altre cose sicuramente noi abbiamo avuto per esempio grandi tecnici lui è stato sinico quindi un po' di amministrazione comunale ne capisce qualcosa noi abbiamo avuto per esempio tecnici come qualcuno mi può sfido a smentirmi del livello del professore Carta del professore Milone io qualcuno sfido a smentirmi su questi tecnici di un certo livello il professore Bavetta abbiamo avuto abbiamo avuto dei tecnici che per l'amor del cielo possono continuare a fare i tecnici per l'amor del cielo ma hanno svolto il loro ruolo eppure anche loro nel momento in cui si è trattato di una verifica hanno ceduto il passo a quello che era stato poi un'aggiunta politica però non è che anche nell'aggiunta Orlando io riconosco ad alcuni tecnici riconosco che hanno lavorato benissimo non faccio nome per correttezza ma ci sono settori di alcuni assessori no ci sono settori dove lavorano uno solo su tutti ti dico che per esempio un assessore come Giuffre è un assessore preparato cioè un professore Giuffre mi sembra un assessore molto preparato perché ha saputo unire l'umiltà di uno che arriva in politica ha saputo proprio far conciliare le due cose l'umiltà a quello che doveva essere quello che lui doveva quasi apprendere dal mondo della politica dopo un po' di tempo ho visto che è andato e devo dire che uno di questi lo posso dire chiaramente che è lui io tra l'altro stiamo parlando di di tecnici quindi di un di un'aggiunta di governo che lavora tanto ma forse lavora male lavora senza esperienza quindi non arriva risultati ma non scordiamoci che comunque questa è una città dove c'è un governo che non ha soldi c'è un governo comunale c'è una città di Palermo che così detta anche dal sindaco stesso non ci sono più risorse no contesto io questo lo contesto sia quello che tu stai dicendo e contesto chiunque venga a dire che la città di Palermo non ha soldi io lo contesto è un dato incontrovertibile poi Mimbo che è componente della commissione bilancio può dire possiamo assegurare la città di Palermo il bilancio del comune di Palermo non è mai stato indistresto mai quando è entrata la giunta ha vinto l'elezione Orlando sfido chiunque a venire in questo studio a dimostrarmi che c'era un segno rosso nessuno assolutamente no ti posso confermare che non abbiamo mai rischiato un default anche se qualcuno ne ha parlato di Palermo sono sempre stati in regola e nessuno può smentirmi su questo e allora quando dicono che ci sono risorse per fare alcune iniziative i teatri per esempio i tagli sui teatri e la cultura ma tu ti sbagli tu forse è un po' di tempo che non guardi e non leggi bene mi pare che c'è no scusami io so che sono a tutt'oggi sono tutti insomma ma guarda che di qualche giorno mi pare che dalla scorsa settimana è uscita l'assegnazione dei fondi per i teatri ricordiamo questo lo voglio cosa è successo al teatro io li abbiamo dati io li abbiamo dati io li abbiamo dati per l'amor del cielo l'amministrazione li ha dati ha destinati ma con un taglio no ma no momento distinguiamo due cose i grandi teatri distinguiamo una cosa i grandi teatri già vivono con finanziamenti nazionali ai teatri Biondo Massimo se parliamo di questi di questi stiamo parlando se parliamo di questi beh distinguiamo però alcune cose intanto al teatro Massimo credo che il sindaco abbia confermato così come fece Cammarata il consiglio comunale aveva tonte il Cammarata glieli diede così ha fatto Orlando ma devo dire il teatro Massimo è il teatro Massimo altri teatri dove sono stati dei tagli il problema è può il comune di Palermo dare dei soldi a un teatro a due tre io credo che in questo ci debba pensare più la regione e lo Stato e guardare a un teatro che produca io non voglio entrare nel merito però credo che noi non potevamo e forse non dovevamo negli anni dovevamo pensare prima a fare questi tagli perché sono soldini sono milioni e milioni non è che stiamo parlando di ma questi tagli perché sono stati fatti perché non siamo senza soldi sono stati fatti perché quando tu devi andare a far bilanciare a far quadrare i conti in un bilancio da una parte devi tagliare per bilanciare e allora dove devi tagliare puoi tagliare dalla scuola puoi tagliare dalla manutenzione puoi tagliare dagli stipendi no? no ma è stata fatta un'operazione e memmo qua poi apriamo una maglia grande lui già capisce a che cosa mi riesco è stata l'operazione Gesip per l'amor del cielo è stata fatta quella operazione Gesip che portava a tagli a tagli io forse se faccio quattro calcoli se a regime se noi avessimo tagliato tutti i teatri prima e a regime questi soldi li mettevamo lì possibilmente avremmo risolto qualche piccolo problema nella cosa non l'abbiamo fatto abbiamo continuato su quella strada ma questo non è che vuol dire che i teatri a vita possono noi i cittadini pagano le tasse e noi poi diamo i teatri la cultura è importantissima ribadisco il teatro massimo noi diamo i soldi tranquillamente anche ad altri teatri diamo ancora oggi dei soldi quando parli di altri teatri parli dei teatri piccoli i piccoli li diamo a tutti tutti quelli che hanno fatto richiesta quindi noi non è che siamo contro la cultura è stato fatto prima è stato fatto ora siamo sempre a favore della cultura lo spettacolo quello che è noi siamo a favore si è fatto come servizio alla città siamo a favore ed ecco perché non abbiamo criticato la manovra anzi ti dico di più non è stato nemmeno il sindaco Orlando ai piccoli teatri a mettere ha lasciato libero il consiglio e il consiglio con la propria manovra ha presentato un emendamento e ha messo i soldi quanto avete messo ai piccoli teatri vi ricordate tu ricordi Pimmo che è sempre sì te lo dico io quanto abbiamo messo te lo dico subito noi abbiamo messo ai piccoli teatri con un emendamento avevamo messo 100.000 euro subito per poter 100.000 euro per tutti però poi i soldi che poi sono stati aumentati devo dire in base alle richieste che erano arrivate anche quest'anno sono state coperte quasi tutte le richieste sono state bagliate quindi anche le piccoli tagli possiamo dire sì piccoli tagli però bene o male sono stati dati a tutti per le richieste se tu consideri che poi molti hanno la produzione propria una vita propria certo quindi bene o male è un sostegno al teatro che tu dai ed è giusto che sia così e ti posso dire che tutta l'opposizione da Tantillo a Mimmo Russo non ha mai detto di no anzi ha sostenuto questo emendamento lo ha fortemente sostenuto l'abbiamo fatto passare perché diciamo hai visto che ho letto il problema è che parlavamo di due cose diverse io parlavo dei grandi teatri tu parlavi dei grandi teatri che comunque prendono finanziamenti a livello nazionale non tutti perché ora forse si stanno cominciando a organizzare ma noi le diamo ma sempre al teatro Massimo le diamo quando mai le abbiamo tolti una cosa si parlava di un grande taglio sul teatro è un grande taglio ma le somme vedi che sono molto anzi si parla di milioni di euro volevo confortare te e i cittadini a casa e gli spettatori a casa in questo caso se me lo dici con questo sorriso già sono tutti tranquilli no devono essere tranquilli perché il comune di Palermo non ha mai rischiato il default punto due l'ultimo l'ultimo consuntivo l'amico Tantillo si ricorderà ha permesso al comune di Palermo di accantonare 33 milioni di euro che sono stati vincolati per problemi che potessero avere le società in buona sostanza noi siamo stati pure capaci siamo stati pure capaci di accantonare somme per le emergenze e ti dico di più se l'anno scorso abbiamo accantonato emergenze tipo il terremoto no emergenze delle società emergenze della società qualunque tipo di emergenza perché noi diciamo la giusta noi non rischiamo per il comune di Palermo qualche rischio l'abbiamo corso per qualche partecipazione per le partecipate per le partecipate per salvare qualche partecipata per salvare qualche partecipata ti posso dire quest'anno ai 33 milioni che sono ancora accantonati che sono ancora accantonati si sommeranno altri milioni di euro va bene che serviranno? essere sempre accantonati per emergenza sempre ma ti faccio l'esempio un esempio di sprechi invece i lavoratori della GESIP sono in cassa integrazione svolgono attività lavorativa fanno quattro giornalieri noi abbiamo i mezzi di trasporto di sabili una decina di mezzi per il trasporto di sabili che non diamo ai lavoratori della GESIP e paghiamo associazioni con 400 mila euro con 200 mila euro al camille e quant'altro questo è un aspetto che dovremo affrontare in consiglio comunale è inammissibile ti vedo preoccupato è inammissibile che ci possono essere ci possono essere queste due pese e due misure dove si risparmia tanto? io a GESIP faccio fare lo stesso il lavoro per altre cose affido alla città dei ragazzi per esempio a un'associazione che pago mentre i lavoratori della GESIP che erano in quel settore della della città dei ragazzi non possono andare più lì allora io dico che un buon padre di famiglia deve fare anche se un poco un poco non possiamo chiudere a quella che è la società ci sono tanti giovani che debbono lavorare anche qualche progetto hai ragione hai ragione Giulio sai quando uno sta bene in casa e deve indorare la casa però in qualche modo chiudi un'altra associazione ti faccio un esempio banale se tu devi indorare la casa tua e c'è disponibilità economica chiami l'indoratore e gli dici fammi questo quanto pago 1200 euro se tu chiaramente trovi nelle condizioni che sei stato espulso dal vicino dei PIP e che sicuramente non hai di che cosa mangiare prendi il pennello e colore e te lo vai a fare tu e risparmi 1200 euro ecco quando riparlavo del buon padre di famiglia un buon amministratore deve cominciare a essere un buon padre di famiglia per fare delle quelle economie per fare delle economie e ti ripeto segui attentamente il consuntivo che approveremo da qui a qualche giorno perché prima del bilancio ce lo vedrete a raccontare qui e noi verremo e io ti dirò quanto è stato accantonato questa per completezza delle informazioni diciamo che quei soldi dell'accantonamento a cui si riferiva il bimbo russo quando sono stati trovati all'inizio quei soldi che sono stati che erano 20 e passa molti provenivano dalla lotta all'evasione e all'inizio molti sono erano arrivati da lì e che noi diciamo avevamo come tesoretto così chiamato messo da parte nessuno aveva mai toccato quindi questa significava insomma amministrare in un certo modo io non dico amministrare bene ma è amministrare in un certo modo ma una cosa è la certa il comune di Palermo ha sempre i conti è una bellissima notizia questa quindi possiamo dire che comunque il nostro comune non soffre è uno dei comuni meno indebitato d'Italia quindi attenzione il comune di Palermo è uno dei comuni meno indebitati d'Italia facciamo un esempio con Roma non c'è termine di paragonia ma è che possiamo fare grandi cose non abbiamo grandi capacità di indebitamento però riusciamo ad andare avanti si pagano tutti gli stipendi i soldi alle partecipate ci sono i servizi sono garantiti i servizi sono garantiti ma dovremmo farli crescere qualità di repubblico non ci sono per Gesepe ma per le altre società ci sono molte cose insomma sono però questo dipende sempre molto dal consiglio comunale voi lo sapete bene quindi la responsabilità del consiglio è tanta ecco ci sono molti giovani che stanno al governo che ancora forse non hanno compreso quanto è importante il loro lavoro da consigliere questo voi da oppositore dovreste non ci devi guardare come oppositore guardaci come consigliere esperti diciamo che hanno una certa esperienza è che abbiamo messo al servizio di nostri colleghi e dell'intero consiglio che non ha quell'esperienza abbiamo messo al servizio la nostra esperienza proprio al consiglio e alla città questo abbiamo fatto ecco perché si è avuta questa rivoluzione all'interno della città del consiglio comunale perché noi abbiamo insomma in maniera responsabile abbiamo messo la nostra esperienza per cercare di non dare problemi alla città anche perché sarebbe stata una lotta impari no 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 impari no questo non lo mettono su questo piano non lo mettono su questo piano perché quando sono arrivate siete troppo pensavano pensavano di avere i numeri e questo e quell'altro sanno benissimo che noi siamo in grado di fare l'opposizione opposizione e abbiamo dimostrato aspetta ma voi avete capito impari per voi impari no impari per loro no impari in questo senso voi siete troppo vissuti di questo consiglio non pensavo che ti ripetessi al fatto che erano 30 quando sono arrivati no 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 non mi preoccupate noi non ci siamo preoccupati assolutamente così ci dicevano all'inizio noi siamo a 30 quindi siamo a posto ci hanno provato ci hanno provato impari al contrario cioè io davo vi davo in vantaggio per l'esperienza in questo senso no ma noi debbo dire il sindaco ci dà atto di quanto è avvenuto magari la realtà adesso diciamo un po' di mettiamo un po' di di colore a questo dibattito magari qualcuno ha criticato fortemente il sindaco perché il sindaco ha dato questa apertura al dialogo dicendo beh ma perché dare questa apertura se noi siamo 30 e noi possiamo imporre cioè così non si va da nessuna parte per la verità quindi bene obiettivi non avrebbero raggiunto state dimostrando anche responsabilità bisogna lavorare perché poi la città è di tutti e poi la città è di tutti noi annunciamo e te lo diciamo che io Mimmo Russo e altri colleghi che il Consiglio Comunale da Bruscia ad altri colleghi che sono presenti a fare l'opposizione a Milazzo eccetera noi ti possiamo dire che siamo e l'abbiamo preteso e abbiamo chiesto e così ce lo dovranno dare nel piano che arriverà il piano industriale di RAP il nuovo contratto di servizio prima di dare il nostro sì ci dovranno dare il piano dello spazzamento e del disempo che cosa vuol dire quello? quando lo promettiamo guarda che vorrei aggiungere dovrebbe essere garanzie di servizi dovrebbe essere a questo piano che ha fatto richieste in aula e scritta verbale io ho aggiunto in quell'occasione quello delle manutenzioni guarda che le manutenzioni rezzano all'amia quindi all'arratto o ce lo danno o ce lo danno lì daremo battaglia daremo battaglia perché che cosa vuol dire questo? la nasce deve sapere che il giorno 7 maggio del 2015 ci sarà la strada di via la mantia che sarà asfaltata lo devi sapere che i marciapiedi non è possibile che tu per asfaltare il marciapiede sotto casa tua devi avere la raccomandazione o chiederlo oppure dover aspettare non è possibile e così vale per lo spazzamento noi abbiamo chiesto quindi sarà tanto di pubblicità dove si vedrà lo spazzamento tu ti collega online e devi sapere che la strada di casa tua viene lo spazzamento avviene ogni venerdì se una strada per esempio che si fa due volte alla settimana sai che si fa il martedì e il venerdì se si fa quattro volte sai quali sono i quattro giorni quindi quando quel giorno non vedremo lo spazzino allora tu online devi dire non c'è nessuno fai la segnalazione se fai la segnalazione se è fatto così il cittadino partecipa e credo che la città sarà più politica e questo è stato il nostro contributo all'amministrazione e cosa varia noi vi diciamo sì ai nuovi contratti di servizio però vogliamo ricordare per esempio all'AMAT loro possono portare tutti i contratti di servizio che vogliono ma noi abbiamo chiesto noi come opposizione diciamo ci siamo riuniti tra di noi per chiedere qualcosa di diverso è stato non so se avete visto quella l'esperimento il bus antico con il bigliettaio avete visto l'incasso come schizzato all'esterno allora cioè se tu vuoi veramente che l'azienda riparta e produca e produca allora tu devi prevedere questo tipo di servizio non ci fanno del bigliettaio no controllori chiamateli controllati chiamateli come volete però che devono essere in maniera costante quindi siccome c'è non a campione abbiamo tanta gente abbiamo tanta gente visto che ora si possono trasportare da un'azienda all'altra allora cerchiamo di fare produrre tutti nell'interesse della città affinché il cittadino se pagano tutti pagano meno bene dobbiamo vivere questa puntata ti do le ultime parole e poi chiudiamo e aggiungo per quanto riguarda questo del bigliettaio è un bellissimo esperimento ma la campagna politica di questa amministrazione deve essere quella dell'abbonamento andare incontro alle necessità degli studenti dei lavoratori dei pensionati affinché si possa avere la possibilità di avere un tesseramento un abbonamento che possa consentire a tutti di avere la possibilità di averlo e risparmiare tantissimo e assicurare già in partenza già in partenza con l'attraverso l'abbonamento di un bilancio positivo un bilancio un bilancio positivo all'azienda certo però non dimenticate tra le vostre emozioni di parlare anche di sicurezza sul trasporto diciamo degli autobus perché ultimamente sapete che sono successo una serie di grandi ma la sicurezza sugli autobus se dico che occorrono i mezzi ecco una delle cose a volte io dal momento in cui vado a favore poi vado contro io non vedo autobus attrezzati per poter fare salire a bordo portatori di Endegap però scusa sulla sicurezza degli autobus posso dire ma se tu metti dei controllori che hanno questo è stato discorso che hanno l'apparecchio che sono collegati con una centrale allertano immediatamente tu la risolvi tu la risolvi e credo che si va verso questa direzione c'è un piano per poter fare questo perché non solo il cittadino prende più sicuro il mezzo pubblico perché sa che se là dentro c'è quella figura del controllore e sa che può far intervenire immediatamente le forze dell'ordine perché è collegato con la centrale direttamente le cose cambiano una cosa per chiudere noi ne faremo ne faremo un nostro cavallo di battaglia quello che è stato annunciato per i lavoratori della GESP per essere ricollocati nelle varie partecipate non faceva riferimento lui per personale che cosa è la legge ce lo permette non possono essere dimenticati non sono figli di un dio minore quelli della GESP dovranno avere il diritto come tutti gli altri a ritornare a essere dei lavoratori al servizio della collettività è chiuso bene allora chiudiamo questa puntata grazie a Giulio Tantillo e a Mimmo Russo perdona Mimmo per la vostra presenza per la testimonianza grazie a te perché ci avete dato questa occasione si riparte perché dobbiamo raccontare alla città quello che accade quindi nei prossimi giorni ci sentiremo anche con gli altri vostri colleghi del Consiglio vogliamo far sì che la Tana diventi un luogo di discussione di quello che accade in Consiglio noi sappiamo pure che c'è una diretta di questo Consiglio Comunale ma spesso la diretta è talmente lunga diventa anche noiosa dico non per criticare il lavoro dei miei colleghi di CTS lo fanno anche bene la gente vuole capire in breve cosa accade e soprattutto parlare di risultati negativi negativi e positivi possiamo dirti che credo che alle dirette televisive che io credo che siano pure importanti però la diretta televisiva ha un qualcosa che deve essere integrata cioè deve essere integrata da quello che poi la comunicazione è del tema così come viene trattato come abbiamo fatto noi oggi qui se questo va integrato con trasmissioni come questo io credo che allora il cittadino verrà informato in maniera positiva tra l'altro riusciamo anche a tirargli fuori qualche sorriso a questi cittadini che sono depressi dai tanti problemi dalle tante emergenze noi ci proviamo con la nostra tara del lupo bene allora vi ricordiamo ancora una volta che la nostra emittente 091 TV oggi la potete vedere sul canale 195 631 e come vera e unica novità siciliana 091 diventa HD siamo sul canale 511 511 full HD perché ha anche un apparecchio con quella tecnologia lì voi vi godrete delle immagini insomma che gli altri non hanno e di questo noi ce ne ventiamo alla prossima grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.